Bentornati su MyFootballJersey. Vediamo un'altra anticipazione per il prossimo campionato, quello che deve ancora incominciare. Questa è la seconda maglia del Bayern Monaco per la prossima stagione, in edizione FAN. FAN. La maglia è molto bella. Come detto, quando, diciamo, in questo momento non è ancora ufficiale, ma nella mia classifica prende 4 stelle. Mi piace molto, molto psichedelica, diciamo così. Qui in alto vedete il costo. Molto competitivo, soprattutto perché comprende anche le spese di spedizione e la spedizione è veramente molto veloce. In descrizione trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia. Andate a vedere perché c'è anche un coupon per ottenere uno sconto di 5 dollari, quindi non vi resta che mettere alla prova il sito. Prima di lasciarvi, voglio raccomandarvi di lasciare un grande like, ma soprattutto iscrivervi al canale. A voi non costa niente e a noi ci permette di avere sempre nuove recensioni. Per oggi è tutto, alla prossima! Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia media della versione Fan.